26 anni fa, un boato che diede inizio a quella che verrà per sempre ricordata come la strage di Capaci. Questa mattina anche la città di Como ha ricordato l'attentata Giovanni Falcone. Ai giardini pubblici al lago di Como, all'albero Falcone, si è tenuta la commemorazione delle vittime dell'attentato mafioso. All'iniziativa promossa dal Centro Studi Sociali contro le mafie e Progetto San Francesco hanno partecipato il sindaco di Como Mario Landry Scina, il prefetto Bruno Corda, il questore Giuseppe De Angelis, le autorità civili, militari e anche sindaci e amministratori. Il discorso conclusivo della commemorazione dopo gli interventi di Benedetto Madonia del Progetto San Francesco del sindaco di Como, di Monsignor Pini e dell'ispettore di Polizia di Stato Cesare Giuliani è stato affidato al prefetto Bruno Corda che ha sottolineato quanto un evento tragico come capaci non debba rappresentare un episodio storico distante ma costituire un segno tangibile dell'importanza della legalità nella società civile.